Ooooooooooooh! Aiuto il GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! La Royal Academy vince e dimostra una schiacciante superiorità! Mamma non voglio più giocare! Basta! Allora non hai capito che non fotti con me. Ma che stai dicendo? Siamo a Scampia, le fatture sono per le bussi. Ma io chi comanda cà? Ah ragà, giochiamo! GIOCHAMO! Si si si, sono meglio di power! Si intendo la vera delle imparate delle bussi. Dai andiamo a gioca! Ma che fai un po' che ragazzo tuoi? Oh io voglio giocare nel campionato! Tu o mi segui o fai il Dennis Rodman di sto cazzo! Silvia? Che succede? Ci hanno rifiutato di nuovo agli altri campi. Siamo senza quattro giocatori. Non ci alleniamo manco se ci sparano ed in più la tizia rossa figa di turno zoccoletta vuole che giochiamo contro una squadra. Ah si? Quale squadra? Sono emozionato! La Royal Academy Vedi con chi cazzo mi devo allenare? Con i pulcini? Oh pulcina BAM ti prendi questo valito! Oh a chi cazzo diri? Signore mi scus- Ma son maniere queste? Modo buco stu pallo- Ok, ti rompero le palle di continuo. Giochi con noi? No. Giochi con noi? No. Giochi con no- Oh e ti ho detto no! Fate cazzo tuoi! Minchia ma l'educazione passerà di moda. Parlite che è il modo di fare di un cavernicolo guarda come cazzo ti alleni! Mmm, però è eccitante questo tipo di allenarsi. Sono dentro. Anche di te se- Naomo grazie! Abbiamo altre entrate guys, ciao! Ho un cappello più ridicolo della mia reputazione in questo anime. Ciao, ti osservo dovunque. Ah dobbiamo giocare contro sti scappati di ca- Ah ma son di scampia? Siamo in dieci anche! Siamo fottuti! Al prossimo episodio!